Milano è un'altra nuova voce. Ho cercato del colore. Questa volta l'ho trovato all'altore e non ci sono scusate tutte le costaglie. Dove? E lei qui è? Uno qua lunghe. Uno qua lunghe. E uno che sta iniziando a mettere un tavolo a lei. C'è? 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 C'è una cura, è ridina. C'è un sacco che era qualche foda? O che ralto non qualche foda? Che mangia pelle? C'è un sacco che mangia pelle. E... Sì, non è stato qua a mangiare. Allora, guarda, per lo meno, che si è menta da arrivare. Sì, guarda.